Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Felipe Anderson e Zaccagni. Allora, che bello, Felipe Anderson e Zaccagni. Allora, la Lazio, iniziamo così, la Lazio sta migliorando in fase difensiva. Nelle ultime quattro partite di campionato ha subito soltanto un gol, quello di Bologna, nell'unico tiro in porta tra l'altro. E quindi, sembra che si stia ripetendo la fase difensiva dello scorso anno, grazie soprattutto all'inserimento di Patrick al posto di Casale. Tra l'altro, porta in violata anche contro il Feyenoord in Champions League, in casa. Il problema della Lazio in questo momento, è inutile dirlo, è la fase offensiva. È la fase realizzativa più che la fase offensiva. Perché non si parla di fase di costruzione, si parla proprio di fase offensiva, cioè l'ultimo passaggio, l'ultima giocata, l'ultimo spunto, la conclusione a rete. Sono queste le cose che stanno mancando. E nel discorso io ci inserisco, ovviamente, i giocatori che giocano lì davanti, ovvero Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Qual è il problema? Il problema è che su Twitter, X, ma io continuerò a chiamarlo Twitter fino a che non morirò, su Twitter ho provato a muovere una critica nei confronti di Felipe Anderson, ma a quanto pare non si può fare. Non si può fare. Almeno su Twitter, ma credo che valga anche per gli altri social, non si può criticare Felipe Anderson. Ho provato a dire che in alcune partite sembra veramente che ti stia facendo un favore a giocare, proprio a livello di atteggiamento, a livello di errori elementari. Invece sembra che Felipe Anderson non si possa criticare perché, testuali parole, ha fatto meglio di Zaccagni, a livello di goal e di assist, ovviamente. Ha fatto meglio di Zaccagni. O perché Zaccagni ha fatto peggio di lui, ok? Ora io mi chiedo, perché separare Felipe Anderson e Zaccagni quando il discorso riguarda tutto il reparto offensivo? Cioè, perché separare? Perché creare una guerra immaginaria tra Zaccagni e Felipe Anderson? Cioè, se io critico Felipe Anderson, non vuol dire che Zaccagni sia esente da critiche. Mi sembra che sia un'analisi estremamente superficiale. È come dire, è come dire, eh no, Gendusia è uno stronzo perché Kamada almeno un gol e lo ha fatto a Napoli. È un'analisi che fa acqua da tutte le parti perché in questo momento non c'è paragone tra l'apporto che ti dà uno e l'apporto che ti dà l'altro, no? Però Kamada ha segnato. Però Kamada almeno un gol l'ha fatto. Cioè, non ha senso, ragazzi. Capite che non ha senso. Tra l'altro io vi sto dicendo queste cose da amante di Felipe Anderson. Cioè, io ho la maglia di Felipe Anderson dello scorso anno. Sono un grande stimatore di Felipe Anderson. Io a inizio anno, dopo le prime due di campionato, dicevo, quando Felipe Anderson si accende, si accende anche la Lazio. Infatti, poi, cosa è successo? A Napoli, Felipe Anderson si è acceso e la Lazio ha vinto. Contro il Torino, Felipe Anderson si è acceso e la Lazio ha vinto. Contro l'Atalanta, Anderson si è acceso per due secondi e ha fatto quell'assist a Castellanos e la Lazio ha vinto. A Reggio Emilia ha segnato Felipe Anderson e la Lazio ha vinto. Contro il Feyenoord, l'assist decisivo per Immobile lo fa Felipe Anderson. Quindi, quando Felipe Anderson si accende, la Lazio vince. Quello che ho sempre detto, quello che dico da inizio stagione, quello che dicevo anche lo scorso anno. Perché Felipe Anderson è potenzialmente, purtroppo potenzialmente è una parola che viene sottolineata spesso quando si parla di Felipe Anderson, ma potenzialmente Felipe Anderson è il giocatore più forte della Rosa e della Lazio dopo Luis Alberto. Cioè, non lo è Zaccagni, lo è Felipe Anderson. È Felipe Anderson il più forte della Rosa e della Lazio dopo Luis Alberto. È per questo che a me dà fastidio quando entra in campo svogliato, ok? Però, cioè, mi dispiace quando un giocatore viene difeso a spada tratta così come quando c'è un accanimento nei confronti di un giocatore. È sbagliato, cioè, va trovato un equilibrio. Per esempio, io ho criticato Lazzari a inizio stagione perché andava criticato, perché meritava di essere criticato. Oggi, però, Lazzari è per rendimento il miglior terzino della Lazio. Per rendimento, e bisogna dirlo, merita di essere detto. Io faccio sempre l'esempio con i registi di cinema, ok? Hitchcock. Parliamo di Hitchcock. I primi dieci anni di carriera sono stati dieci anni anonimi, ok? Poi ha fatto Rebecca e da lì in poi è cresciuto, è diventato regista della Madonna. Ma non è che poi, con Psycho e Vertigo, ha cancellato i suoi primi dieci anni di carriera. No, quelli sono rimasti. Fincher ha sbagliato gli ultimi due film, ok? Fincher ha toppato gli ultimi due film, incluso quello che è appena uscito. Non è che, dato che ha fatto Seven e Fight Club, allora va elogiato a prescindere. No, non funziona così. Adesso merita giustamente di essere criticato per gli ultimi due film. Cioè, nessuno può accampare di rendita, ragazzi. Neanche Orson Welles per aver fatto quarto potere e poi per aver fatto una carriera un po' anonima. Nessuno può accampare di rendita. Cioè, Felipe Anderson non può accampare di rendita fino a che Zaccagni non farà meglio di lui. Capite che cosa intendo? Cioè, bisogna trovare un equilibrio. La Lazio ha fatto 13 gol in 12 partite di campionato. Vuol dire che la responsabilità è di tutto l'attacco. È di tutto l'attacco, ok? Va trovato un equilibrio anche per l'allenatore. Cioè, la sconfitta di Bologna non è responsabilità dell'allenatore, perché l'allenatore prepara bene la partita. La Lazio nel primo tempo merita di stare in vantaggio. Poi, nel secondo tempo, la squadra non scende in campo e prende gol al primo tiro in porta. Però, va detto che la sconfitta di Rotterdam è responsabilità dell'allenatore, perché sbaglia la formazione iniziale. Non fa giocare Gendusi, Patrick e Castellanos, che in quel momento erano i giocatori più in forma della rosa. E quindi lì è responsabilità dell'allenatore. Ma noi laziali non possiamo permetterci di prendere una posizione inamovibile su un giocatore o su un allenatore. Va trovato equilibrio. Quando si accende Filipe Anderson si accende la Lazio. Ma se Filipe Anderson si accende in 5 partite su 16, perché la Lazio ha giocato 16 partite in questa stagione, ok? E se Filipe Anderson si accende in 5 partite su 16, allora vuol dire che c'è un problema, ragazzi. Cioè, 5 partite su 16. Ed è inutile che mi venga detto su Twitter e però lui si sacrifica. Va bene. Allora, accontentiamoci del sacrificio di Filipe Anderson e finiremo tutte le partite 0-0 fino a fine campionato. Pareggeremo tutte le partite 0-0 fino a fine campionato, così almeno ci salviamo, almeno non andiamo in Serie B. Non ci rendiamo conto che la Lazio è decima in classifica. Ed è decima in classifica soprattutto per la fase realizzativa inesistente dei propri tre attaccanti. Però uno può essere criticato e l'altro no. Follia. In questo momento merita di essere criticato a Zaccagni, così come merita di essere criticato a Filipe Anderson. E la stessa cosa vale per Immobile, che secondo me è in leggera crescita, ok? Mi sembra più lucido quando deve giocare il pallone. Quindi più lucido sia fisicamente che mentalmente. Ditemi cose nei messaggi nei commenti, mettete i tuoi like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se è per caso. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio.